Atomic Redster X9 RS Revo S è uno ship versatile per chi vuole velocità e prestazione elevate, precisione in tutta la fase di curva grazie al multi radius sidecut con un raggio di 15,2 metri e 66 mm al centro nella lunghezza di 175 cm. La costruzione è ultra power woodcore con un laminato a doppio strato di titanal. La tecnologia Revo Shock, novità Atomic per la stagione 2021-2022, attutisce le vibrazioni indesiderate offrendo stabilità e una maggiore accelerazione all'uscita dalle curve. Gli sci hanno un profilo camber. Atomic X9 RS, una piacevole sorpresa. Mi è piaciuto molto il raggio di curva inferiore al G9 si fa sentire, ti aiuta molto lo sci nell'entrata curva e devo dire che anche la nuova tecnologia con questi moduli installati nella parte anteriore dello sci aiuta diminuendo le vibrazioni. Bello ship! Uno sci rinnovato mi è piaciuto proprio per la sua elasticità. Lo metti in curva, vai carving nella seconda parte di curva, rientra benissimo, non devi neanche richiamarlo, ma rientra da solo. Bello, l'ho provato anche sul corto raggio, bello dinamico, bello stabile, veramente un gran bello sci, complimenti a Atomic. Uno sci che ho trovato molto maneggevole, anche adesso su neve molle, trasformata, l'ho trovato veramente anche abbastanza galleggiabile, non è uno sci che ti appesantisce. consiglierei assolutamente ad un pubblico L5, L6, quindi qualcuno che già sa sfruttare bene la conduzione, ma magari a velocità moderate. Peccato averlo provato con neve marcia, veramente un bello sci, piacevole, soprattutto nell'arco corto, chiusura di curva molto decisa, e si fa amare e apprezzare anche su questo tipo di neve nel medio, molto facile in ingresso la spatola morbida e rilascia la giusta energia in chiusura. Grazie per la visione!